Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Messina ha indagato il proprietario della casa dove è morto Michele Lanfranchi, trovato cadavere sabato, sera su marciapiede antistante all'appartamento nel quartiere Giostra. Duro colpo alla mafia dei Pascoli nell'Agrigentino, tra i cinque arrestati anche Pietro Campo, referente sul territorio di Matteo Messina Denaro, l'anziano boss di Santa Margherita di Belice, stava scontando 14 anni di carcere. Crisi idrica dopo gli accordi fatti fra regione, rappresentanti degli agricoltori si spengono gli entusiasmi e si attendono. Le azioni concrete, il decreto per i voucher destinati al foraggio per gli allevatori dovrà passare dalla Commissione Attività Produttive dell'Ars. Catania verso l'allargamento dell'isola pedonale nel centro storico, dal 15 giugno all'area del Castello Ursino, tempi meno certi per l'estensione del tratto vietato alle auto in via Crociferi. Lo sguardo dei ragazzi sul quartiere Zia Lisa Catania, nel video sommersi la denuncia degli alunni del liceo Musco sul degrado della zona. Un drone ambulanza munito di defibrillatore per l'emergenza, presentato a Marsale il primo volo del supporto tecnologico salvavita nella sede della Lega Navale Italiana. Il Catania continua il lavoro per la prossima stagione, per l'allenatore Toscano deve discutere il divorzio con il Cesena in arrivo Pelligra per definire budget e strategie societarie. Ancora ben trovati, c'è un indagato per la tragica morte di Michele Lanfranchi, il giovane trovato morto a Messina. Sabato sera si indaga su quanto potrebbe essere accaduto. Fondamentali saranno le perizie e l'esame sul corpo. Ma sentiamo Francesco Triolo. C'è un indagato per la morte del 19enne Michele Lanfranchi, il giovane trovato in una pozza di sangue sabato notte al Rione Giostra a Messina. Si tratta del quarantenne Giovanni Laganà, proprietario dell'abitazione dove è avvenuta la tragedia. Si tratta di un atto dovuto a tutela dello stesso Laganà, su cui allo Stato non è stata richiesta alcuna misura. Nell'ambito delle indagini condotte dal sostituto Liliana Todaro, che dovrà definire i contorni della vicenda, secondo quanto stanno raccogliendo gli uomini della squadra mobile della Questura, era da una settimana che Michele Lanfranchi se ne andava in giro al Rione Giostra con quella pistola in tasca. Una 7,65 comprata, non si sa dove e da chi. A detta degli amici e dei conoscenti, nelle ultime 48 ore ne sono stati sentiti parecchi, come i persone informate sui fatti, avrebbe avuto in testa di farla pagare a qualcuno. Non si capisce bene come e perché. Forse un banale diverbio, qualcosa di più, che a quanto pare per l'operaio 19enne si era trasformato molto presto in una tristemente classica questione d'onore. Il punto fermo da cui si stanno muovendo le indagini è comunque che la tragedia è avvenuta nell'abitazione di Laganà e poi il corpo è stato preso di peso e trasferito fuori in strada nella via Michelangelo Rizzo, una stradina laterale che incrocia via Palermo da un lato e via Leggiostra all'altro. Lanfranchi, un particolare di non poco conto a quanto pare aveva ancora in mano la pistola da cui è partito il colpo, sarà l'autopsia e la perizia balistica sulla pistola, farne capire di più. E si torna a parlare di mafia dei Pascoli. Un duro colpo è stato inferto nell'agrigentino. Tra i cinque arrestati di oggi c'è anche Pietro Campo, considerato referente sul territorio di Matteo Messina Denaro. Ma sentiamo tutto nel servizio di Davide Sardo. Altro colpo alla mafia dei Pascoli. I poliziotti della squadra mobile di Egregento hanno imperversato all'alba nell'entroterra montano-agrigentino tra Santa Margherita Belice e Montevago. E' stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare firmata dalla procura di Palermo destinata a cinque indagati. Sullo sfondo delle indagini si erge anche Matteo Messina Denaro, che avrebbe controllato lo stesso territorio tramite l'anziano boss di Santa Margherita, Pietro Campo, che sconta 14 anni di carcere e che sarebbe stato il referente del capomafia trapanese della provincia di Egregento, interprete dei suoi pizzini. A conferma dei rapporti tra i due vi è anche un video registrato dalle telecamere nascoste il 7 dicembre 2009 che ritrae un fuoristrada con a bordo due persone, una delle quali sarebbe Messina Denaro, in una zona di campagna a ridosso di un terreno dell'azienda agricola di Pietro Campo in contrada a Gulfa tra Santa Margherita Belice e Torre Pandolfina. Gli arrestati in carcere sono tutti di Santa Margherita, oltre a Pietro Campo vi sono il figlio Giovanni Campo, 34 anni, Pietro Guzzardo, 46 anni e Pasquale Ciaccio, 59 anni. Il quinto, Domenico Bavetta, con altri anni di Montevago, è ristretto ai domiciliari. A vario titolo gli si contestano i reati di estorsione e lecita concorrenza con minaccia o violenza aggravati dal metodo mafioso e di aver agevolato la situazione mafiosa Cosa Nostra. Dalle indagini a cui ha contribuito anche la squadra mobile di Palermo è emerso un capillare controllo per la gestione illecita delle attività agropastorali con relativo utilizzo dei fondi agricoli sul territorio agrigentino, compreso la Santa Margherita del Belice, Montevago e Sambuca di Sicilia fino al confine con Contessa e Intellina in provincia di Palermo. Per praticare tali condotte, gli indagati si sarebbero avvalsi della indiscussa forza intimidatoria derivante dall'essere riconosciuti quali esponenti di vertice del mandamento mafioso di Santa Margherita di Belice. Un diciannovenne di Campobello di Licata è stato trovato in possesso di un chilo di cocaina, è stato arrestato dalla squadra mobile di Agrigento per spaccio di stupefacenti. La droga era nella sua auto ed è stata sequestrata durante un normale controllo stradale vicino a Canicattì. Due persone sono state arrestate per droga anche a Catania nel quartiere di San Giovanni Galermo. Gela, indagano su un giovane intossicato dalla cocaina, la polizia ha scoperto un'attività di spaccio oltre alla ricettazione di beni culturali e la detenzione di armi clandestine. Due gli arrestati e due le misure cautelari in relazione appunto a questa operazione. E oggi è il giorno della sentenza di appello nel processo per il depistaggio delle indagini sulla strage Borsellino. Gli imputati sono tre poliziotti. In primo grado era stata dichiarata la prescrizione per due, mentre ne era stato assolto un terzo. Ma la procura non ci sta e adesso chiede condanne per tutti. Sentiamo Maglio Viola. È attesa nel pomeriggio la sentenza d'appello nel processo per il depistaggio delle indagini sulla strage di Via D'Amelio, avvenuta il 19 luglio del 1992, è costata la vita al giudice Paolo Borsellino e a cinque agenti della sua scorta. I giudici della corte d'appello di Caltanissetta sono entrati in Camera di Consiglio per assumere la decisione finale che probabilmente pronunceranno nel tardo pomeriggio. Imputati di calunia aggravata dall'aver favorito Cosa Nostra, tre poliziotti del pool che indagava sugli attentati mafiosi del 1992. Si tratta del funzionario Mario Bo, dell'ispettore Fabrizio Mattei, dell'agente Michele Ribaudo. Per Bo, l'accusa rappresentata dal procuratore generale Gaetano Bosco e dal pubblico ministero Maurizio Buonaccorso applicato alla procura, ha chiesto la condanna a 11 anni e 10 mesi, per Mattei e Ribaudo a 9 anni e 6 mesi. In primo grado il tribunale, escludendo l'aggravante mafiosa, ha dichiarato per scritto il reato di calunnia contestato a Mattei e Bo e ha assolto invece Ribaudo. Secondo l'accusa, sotto la direzione dell'ex capo della squadra mobile Arnaldo Labarbera, nel frattempo deceduto, i tre poliziotti avrebbero creato a tavolino una falsa verità sull'eccidio, costringendo Vincenzo Scarantino, piccolo delinquente della borcata guadagna, a dirsi pentito e a dare una ricostruzione non veritiera della fase preparatoria dell'attentato, per accusare mafiosi che con l'autobomba di Via D'Amelio non c'entravano nulla. Un tradimento da parte degli apparati dello Stato che non può essere perdonato, ha detto il procuratore generale Fabio D'Anna al termine della sua requisitoria. A Palermo, Maxi Rissa, la scorsa notte in Via Dante, in pieno centro, una violenta elite è scoppiata tra alcuni cittadini dello Sri Lanka. Pugni, calce, colpi di spranghe e bottiglie. Al loro arrivo i carabinieri hanno trovato a terra una persona di 30 anni con gravi ferite alla testa e al corpo. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Cervello. E andiamo a quelli che sono stati gli accordi fatti proprio ieri fra regione e rappresentanti degli agricoltori per contrastare le conseguenze della crisi idrica. La Col di Letti ha detto che sono state accolte le nostre richieste, ma i toni trionfalistici di ieri si sono già pacati. Adesso è il giorno dell'attesa che tutto quanto è stato detto si concretizzi. Il decreto per i voucher, ad esempio, quelli destinati al foraggio per gli allevatori, dovranno passare alla Commissione Attività Produttive dell'Ars. Il servizio. Abbiamo vinto. Tutte le nostre richieste sono state accolte. All'indomani dell'incontro fra gli agricoltori in protesta e il presidente della regione, Renato Schifani, il commento dei manifestanti è entusiasta. Ma nonostante l'avvertenza sia andata a buon fine alle richieste accolte, adesso occorrerà vedere gli effetti reali sul territorio. E questa è la grande sfida in una Sicilia colpita da siccità severa. I problemi maggiori sono nell'entroterra, a partire dall'agrigentino e ad allargarsi per tutta la Sicilia centrale, ma soffrono anche se meno le campagne del Trapanese e del Palermitano nella Sicilia occidentale, nel Catanese, Aracusano e Siracusano a Oriente. La regione comunque interverrà con azioni concordate. Per gli allevatori arriveranno quasi subito i voucher per il foraggio. Il decreto alla firma oggi dovrà poi passare dalla Commissione Attività Produttive dell'Ars, ma già la prossima settimana dovrebbe essere operativo. I rappresentanti degli agricoltori inoltre siederanno al tavolo di crisi per concordare di volta in volta ogni azione necessaria, mentre il Presidente Schifani ha avviato anche un tavolo politico che si riunirà periodicamente per verificare la disponibilità economica che si può utilizzare. In questo governo troverete sempre un interlocutore, ha detto agli agricoltori il Presidente della regione, sempre pronto all'ascolto delle vostre esigenze. E questa mattina Catania e alcuni comuni della provincia sono stati interessati da un improvviso di stacco di corrente elettrica. Sentiamo cosa è accaduto da Luca Ciliberti. Blackout di una decina di minuti tra le 9.10 e le 9.20 in buona parte della città di Catania e nella sua area metropolitana. Tant'anni messaggi sui social per comprendere se si sia trattato solo di un fatto isolato. Tra lo spaesamento generale il pensiero vola allo scorso luglio quando Catania è rimasta per giorni senza luce e senza acqua. Dieci minuti infiniti che, spiegano da Terna, sono stati dovuti a un distacco dell'alta tensione per cause in corso di approfondimento. Ma, precisa la società in una nota, la disalimentazione della rete è stata prontamente risolta e al momento non si registrano anomalie. Nessuno stress della rete elettrica dunque dovuto a un eccessivo utilizzo di condizionatori o impianti, anche perché il meteo sembra ancora essere clemente. Eppure quello di oggi potrebbe essere un campanello d'allarme che, in attesa delle temperature torride che arriveranno tra qualche settimana, ci dovrebbe far riflettere. Le infrastrutture, probabilmente migliorate solo di poco rispetto allo scorso anno che restano inadeguate, il cambiamento climatico dovrebbero spingerci a un utilizzo consapevole di elettricità e acqua. Applicando semplici accorgimenti, ad esempio, si potrebbero risparmiare centinaia di euro sulle bollette domestiche ed evitare condizioni di estremo disagio per la collettività. Si allarga a Catania la porzione di centro storico che diventa pedonale. Due a breve le aree pronte ad essere inibite alle auto. Dal 15 giugno la piazza attorno al Castello Ursino. Tempi meno certi per l'area pedonale, invece, per l'estensione dell'area pedonale di via Crociferi. Ma sentiamo Adelaide Barbagallo. Il centro storico di Catania con sempre meno auto. Due le nuove isole pedonali che vedranno l'avvio. Se per piazza Federico di Sbevia c'è già una data, il 15 giugno, dopo tanti incontri con associazioni, residenti, commercianti, la fase sarà però sperimentale. Nessuna polemica o perplessità per l'isola pedonale Crociferi. Una parte della via, considerata patrimonio mondiale sito unesco, da anni è chiusa al traffico. A breve lo sarà per intero, sino a Villa Cerami. La segnaletica, come vedete, c'è già. Da via Santa Maddalena si scende per via Sant'Elena per imboccare via Gallo. Anche la viabilità da tempo è stata cambiata. Via Santa Maddalena in un tratto diventa a doppio senso. I varchi saranno gestiti dalla MTS. Come vedete è tutto predisposto. C'è la telecamera, ci sono i pannelli, ma sono spenti perché si attende ancora l'allaccio dell'Enel. Dopo una lunga attesa l'Enel avrebbe assicurato all'amministrazione comunale che a giorni i varchi saranno attivati, ma una data al momento non c'è. Intanto a godersi il barocco di via Crociferi sono i turisti, sempre più numerosi. È bella, è bella la via. L'abbiamo visitata con la nostra guida e adesso la ripercorriamo perché non eravamo riusciti ad entrare nel convento. È una delle vie barocche più belle d'Italia. È molto bella. È un bel posto per visitare. Sì. Grazie. Ma ecco, purtroppo, come accogliamo i visitatori. Questo cartello dovrebbe fornire loro informazioni utili. Perché? Perché queste scritte che troviamo anche nei muri? Lo sguardo dei ragazzi sul quartiere Zia Lisa a Catania. Nel video sommersi la denuncia degli alunni del liceo Musco sul degrato della zona. Ma sentiamo Giusy Lazzara. Qui si scarica e si brucia. Disoccupazione. Criminalità. Spaccio. Giovani reporter crescono. Questo è il video degli studenti del liceo Musco di Catania che telecamere in mano sono andati in giro per il quartiere di Zia Lisa dove si trova la loro scuola. Muretto e recinto ed ecco un ovile. Cavalli allevati in garage poco illuminati per poi correre sull'asfalto per scommesse clandestine. Loro non si arrendono davanti a tanto degrado e abbandono. La normalità è essere in grado di denunciare questa cosa e prendere dei provvedimenti. Con il video sommersi si guarda oltre. Sia chi vive nel quartiere o comunque nei quartieri di Catania sia lo Stato trovano un punto in comune e nasce quella sorta di fiducia perché senza fiducia non può migliorare e cambiare niente. L'istituto comprensivo Musco accoglie 300 studenti dai 3 anni fino ai maggiorenni, tutti dei quartieri di Librino, Villaggio Sant'Agata e Zia Lisa. Se un diamante viene immerso all'interno di una pozzanghera sono in pochi che poi si soffermeranno a notare quella che è la bellezza, quindi andando oltre le apparenze. Mettiamo in campo le competenze che state acquisendo per guardare il territorio dove viviamo e possibilmente attraverso questo sguardo riprogettarlo diverso per il futuro. Il video sommersi curato dai ragazzi dalla professoressa Sonia Giardina ha già vinto due premi nei concorsi riservati alle scuole. Adesso ci fermiamo al rientro. Vi faremo conoscere un nuovo aiuto per le emergenze in sanità, il drone ambulanza. Tornati in studio a Marsala è stato presentato il progetto del primo volo drone ambulanza con defibrillatore. È stata organizzata una simulazione con la consegna di strumentazioni salvavita direttamente sul luogo dell'incidente. Vediamo Davide Sarto. L'utilizzo dei droni come supporto nel salvataggio di persone in pericolo è quanto è stato sperimentato a Marsala, presso la sede della Lega Navale Italiana, in una simulazione che ha visto l'utilizzo di un drone ambulanza messo a disposizione dall'azienda South Drone SRL, partner tecnologico della manifestazione. L'evento è stato organizzato a Rotary International. La simulazione ha visto la consegna di strumentazioni salvavita come il defibrillatore direttamente sul luogo dell'incidente in un tempo massimo di tre minuti dall'allarme. Grazie al drone che, essendo un mezzo aereo, che non deve viaggiare per le vie di una città bloccata dal traffico, i tempi si riducono e la tecnologia ci permette appunto di poterlo inviare in aiuto nelle zone dove viene richiesto appunto questo servizio con il defibrillatore. Arriva nei tempi che noi prevediamo, dando il massimo delle possibilità a quella persona di riprendersi. Una sperimentazione che introduce un servizio all'avanguardia ed altamente tecnologico rappresenta un notevole passo in avanti nel campo delle risposte anche in caso di emergenze in strada e in mare. A Catania la straordinaria mostra dedicata a Caravaggio. Tre dipinti del maestro, tra questi San Sebastiano, esposto per la prima volta in Italia e opere della sua scuola. Ma vediamo nel servizio di Giusy Lazzara. C'è una verità misteriosa nella luce dei dipinti di Michelangelo Merisi in arte Caravaggio. A Catania la straordinaria mostra con tre teleautografe del maestro definito un rivoluzionario dell'arte. Primeggia il San Sebastiano, esposto per la prima volta in Italia dopo una complessa storia di acquisizioni e trasferimenti. Bellezza straordinaria per questo giovane colpito dalla luce che lo rende santo. Altro capolavoro il ragazzo morso dal ramarro. Il giovane come fotografato nel momento in cui gli esce la lacrima. Un quadro allegorico che racconta dell'amore che può diventare doloroso. Con il Cavadenti si ha la rappresentazione di una pittura moderna. Il pathos viene fuori dal dolore del personaggio centrale ma li fanno da cornice i curiosi che sembrano soffrire con lui. La mostra ripercorre anche il rapporto tra Caravaggio e il fenomeno artistico dei caravaggeschi. Gli artisti che anche dopo la sua morte ma solo per un breve periodo dipinsero con le tecniche innovative del loro maestro. La mostra, ospitata nello spazio museale della Pinacoteca dell'ex monastero di Santa Chiara Catania, da poco restaurata, resterà aperta fino al 6 di ottobre. Dal vermo cane al pesce scorpione sono oltre mille le specie aliene che proliferano nei nostri mari con effetti difficili da prevedere. Lorena Dolci ne parlerà oggi a Sicilia 24 Focus in onda dopo il nostro telegiornale. In studio con lei il biologo marino Francesco Tiralongo, la ricercatrice Michela D'Alessandro e il pescatore Alfonso Barone. L'appuntamento in diretta alle 14.30 su Telecolone e streaming sulla Siciliaweb.it. Potrete anche inviare i vostri messaggi, le vostre domande al 342-7455-005. Una pausa ancora una volta e poi il calcio. Siamo in chiusura con il Catania che vuole un allenatore che conosca bene la categoria e sappia vincerla. La pista toscano resta sempre la più accreditata, ma il tecnico deve chiudere il rapporto con il Cesena. Marco Carli. Strada tracciata, ma il Catania non dipende solo da se stesso. Stiamo parlando di Toscano, allenatore designato degli Ettei. Il tecnico, 175 punti in due anni col Cesena, con una promozione in via l'attivo, sbaragliando la concorrenza, dopo la vittoria del campionato che garantiva il prolungamento del contratto, ha invece chiuso i rapporti con la proprietà americana dei Bianconeri e col DS Artico. Il punto è ufficializzare il distacco, sia burocraticamente che nei confronti della tifoseria. Tutto nel calcio è possibile, ma ipotizzare adesso che la rottura non si concretizzi è molto difficile. Ecco dunque il Catania, che per primo e con convinzione si è mosso sul tecnico, mettendo sul piatto un'offerta. Ma appunto, siccome il calcio è imprevedibile, è normale che la società dell'elefante tenga in piedi delle alternative, Pagliuca per esempio. Ma di certo il tecnico, come dimostra la strada intrapresa con Toscano, avrà un chiaro ed inequivocabile pedigree, conoscere il campionato e saperlo vincere. Nel caso con Toscano potrebbe esserci anche Vanzetto nello staff insieme al fedelissimo vice Michele Napoli. Da verificare poi la posizione di Zeoli, che sui social ha espresso tutto il suo sentimento per il rosto azzurro. Mentre la dirigenza attende a breve l'arrivo di Pelligre e di Bresciano per delineare le linee guida societarie, quelle sul campo saranno tracciate dal direttore sportivo Faggiano con il nuovo tecnico. Ecco che anche qui, fosse Toscano, si parte dalla difesa 3. Nell'ultimo anno, con il 3-4-2-1 della seconda giornata, sono arrivati per il Cesena 30 vittorie, 6 pareggi e una sconfitta. Gli uomini? Castellini, Zammarini, Cianci, Quaini, forse Cicerelli, da verificare Chiarella. Appunto per il modulo che utilizzerà il Catania. Il resto, tutto da valutare. Comunque sia, per quanto riguarda la Rosa, sarà probabilmente una nuova rivoluzione. La Coppa Davis di tennis è in Sicilia, da oggi esposta al Teatro Massimo a Palermo. Dopo il triunfo della Nazionale Azzurra, la Coppa da mesi va in tour per tutta Italia. Marco Gullà. L'attesa è finalmente terminata. La Coppa Davis, vinta dalla Nazionale Italiana di tennis a dicembre scorso, dopo aver toccato praticamente tutte le regioni d'Italia, arriva in Sicilia e lo fa come prima tappa a Palermo. Eccola qui, in tutto il suo splendore esposta al Teatro Massimo. Curiosi, appassionati, turisti, tutti in fila per un selfie con la Coppa. Avere qua la Coppa Davis, poterla guardare da vicino, toccarla, è sicuramente una grandissima soddisfazione per tutti gli appassionati e anche i non appassionati di questa disciplina, perché rappresenta una vittoria non solo della Nazionale che ha conquistato in campo questa Coppa, ma il successo di tutta, un movimento della nostra federazione che sta crescendo anno dopo anno con risultati veramente straordinari. Tantissimi turisti. A Palermo oggi è Davis Mania. Grande soddisfazione e siamo davvero felici di poter ospitare la Coppa Davis qui a Palermo con un programma fitto di incontri. Abbiamo oggi il Teatro Massimo, poi avremo ogni giorno nei principali circoli della città l'esposizione della Coppa, che per noi è un motivo di vanto. Tennis che cresce e che come numero in Sicilia è secondo solo al calcio. Il telegiornale è finito, a tutti voi grazie per l'attenzione. Sicilia 24 tornerà per la prossima edizione alle 19. Vi lascio con il nostro Focus condotto oggi da Lorena Dolci. Buon pomeriggio.